Gli sequestravano i cellulari e le chiavi delle auto e aspettavano l'apertura della cassaforte per rubare i contanti. Sono nove le persone arrestate dai carabinieri di Ascoli Piceno con la collaborazione dei colleghi di Catania. Sono tutte catanesi, due di giarre e una decima è sfuggita alla cattura. Le indagini sono state avviate dopo un colpo all'Unicredit di Porto d'Ascoli, a San Benedetto del Tronto. Nell'agosto 2015, tre rapinatori, di cui uno con il volto coperto, hanno fatto irruzione e sequestrato 21 persone, con un bottino di oltre 115.000 euro. La banda di rapinatori aveva tentato altre due rapine in altrettanti istituti di credito, a Taggia in provincia di Imola e a Marcon in provincia di Venezia.